Cos'è la spondilita anchilosante? La spondilita anchilosante è una malattia reumatica che colpisce in maniera precisa e delettiva la nostra colonna vertebrale. Si presenta in circa lo 0,5% della popolazione, forse anche qualcosa di più, ed è molto importante perché spesso questa malattia purtroppo viene diagnosticata in ritardo, perché il sintomo fondamentale è il mal di schiena e il mal di schiena è un qualcosa che colpisce quasi tutti noi nel corso della nostra vita. Quindi è difficile capire quando una persona ha mal di schiena se ha effettivamente questa malattia, probabilità abbiamo detto 0,5%, o se invece ha un normale mal di schiena di natura degenerativa. Perché se è vero che è solo lo 0,5% che è colpito, è anche vero che quello 0,5%, che comunque rappresenta un numero cosclico di persone, può andare incontro a problemi molto grossi, oltre ad avere il dolore, può andare ad avere problemi molto grossi di funzionalità della colonna vertebrale. La spondilita anchilosante è una malattia infiammatoria, che comporta infiammazione in tutta la colonna vertebrale. Abbiamo dei criteri che la definiscono, attualmente in realtà questi criteri sono stati ampliati e si usa un concetto più generale di malattia che noi definiamo spondiloartrite assiale, ossia tutto ciò che è malattia infiammatoria della colonna vertebrale viene definito spondiloartrite assiale. Parliamo di spondilita anchilosante solo quando ci sono alcuni criteri particolari, in particolare quando c'è un interessamento importante delle articolazioni sacroiliache, che sono le articolazioni che troviamo tra l'osso sacro e il bacino, e quando c'è questo interessamento allora noi parliamo appunto di spondilita anchilosante, altrimenti più in generale parliamo di spondiloartrite assiale. Dicevo che la cosa più importante in questa patologia è riuscire a capire se una persona che ha mal di schiena ha effettivamente una spondiloartrite assiale oppure non ce l'ha. Non è facile da capire, i sintomi aiutano, nel senso che abbiamo dei sintomi che hanno delle caratteristiche particolari in caso di infiammazione e queste caratteristiche sono un dolore che è prevalente quando una persona sta ferma, quindi non al movimento ma è più al mattino quando la persona si sveglia, è un dolore accompagnato da rigidità, cioè la persona che al mattino si sveglia ha dolore, si sente molto rigido e si scioglie man mano che passa il tempo, è un dolore che risponde agli antifiammatori, è un dolore che porta al risveglio spesso della persona che ha questo problema. Quindi già il dolore ha delle caratteristiche che devono far pensare alla possibilità che ci sia una spondiloartrite. Un'altra cosa importante da ricordare è l'età. La spondiloartrite classica si ha l'insorgine in età giovanile, quindi quasi sempre prima dei 45 anni. Quindi persona che ha meno di 45 anni, che ha un dolore cronico, questa è un'altra caratteristica fondamentale, perché il dolore meccanico spesso va e viene a periodi, invece il dolore della spondiloartrite è un dolore fisso. Quindi persona di 45 anni, che ha un dolore fisso da almeno 3 mesi e che ha quelle caratteristiche, è una persona che ha buone probabilità di avere una spondiloartrite assiale, quindi deve consultare un reumatologo che farà i test necessari per capire se effettivamente c'è questa patologia. Test essenziali che sono fondamentali, che sono rappresentati da un esame del sangue che noi chiamiamo HLA-B27, che è un marcatore genetico molto comune in questa patologia, e accettamenti radiologici con radiografia tradizionale o con risonanza a seconda dei casi, che consentono di capire se un paziente ha un'infiammazione a carico dell'articolazione sacroiliache, come vi dicevo prima, o addirittura di tutta la colonna vertebrale. Fatta la diagnosi, bisogna intervenire, ovviamente prima di tutto perché la persona che ha questo problema ha dolore, ma come vi dicevamo già in precedenza, anche perché sennò possono svilupparsi dei danni che nel tempo comportano un danno irreversibile alla colonna vertebrale. Quindi una volta fatta la diagnosi, bisogna iniziare la terapia, che può essere soltanto con gli antifiammatori, se la forma è relativamente lieve, non evolutiva, e comunque responsiva a questo tipo di terapia. Se invece non c'è risposta a questa terapia, bisogna ricorrere a terapie più importanti, ossia gli antitnf, che sono delle sostanze che hanno cambiato integralmente la storia delle persone con spondilità, tritassiano in generale, con spondilità anchilosante in particolare, soprattutto perché hanno un'efficacia in realtà molto buona sui sintomi e perché bloccano un po' probabilmente anche l'evoluzione della malattia. È fondamentale usare questa terapia, ma rimane ancora fondamentale per questi pazienti fare dei programmi di educazione fisica rilevanti, cioè la fisioterapia in questi pazienti ha ancora un ruolo fondamentale. Tutto questo però succede se il paziente ha una diagnosi, ancora adesso abbiamo dei ritardi diagnostici di molti anni, 5-6 anni, prima che un paziente arrivi al reumatologo, quindi diagnosi precoce, riconoscimento di un sospetto di questa malattia precoce, quindi invio al reumatologo, diagnosi di conseguenza precoce, terapia adeguata mirata al singolo caso. Grazie a tutti.